Buon ragazzo, volete mandare questo nuovo video Allora, oggi siamo su un Ahimai, quindi No, no, no No, no, no Non abbiamo mai fatto niente di male No, siamo dei ragazzi ottimi Abbiamo solamente ammazzato qualcuno per me Allora, io mi prendo questo, bellissimo E noi Facciamo inquadrare un attimo qua per far vedere solo Ma aspetta, ma sono al contrario Allora Noi adesso abbiamo I zii Come strumenti sono Così è giusto Noi lo vediamo all'incontrare Solo 40 secondi verso la roba Allora, abbiamo acceso La nostra play La mia play la cosa Abbiamo acceso la nostra play Pagata io Ho fatto tutto io Ma è summa E siamo andati su internet E siamo andati E siamo andati su internet E abbiamo scritto domande Hai mai chiesto Ahimai? Ahimai Ok Allora, abbiamo 100 domande Allora Rispiega Sì, probabilmente Diciamo Le facciamo tutte Hai mai fatto Qual è la tua fiamma preferita? No La fiamma preferita? No No, ma facciamo così La una in giù Hai mai rotto qualcosa in casa? Is Sì No, aspetta, così, giusto? Sì Hai mai fatto E vedevi raccontare Ah, allora praticamente Una volta È successo proprio un casino Perché avevo tipo Una fila di bicchieri Uno sopra l'altro E io sbadatamente L'ho toccato col gomito E vedi proprio le torri gemelle Che sono capovolte Per terra Io invece Hai fatto cadere il tuo fratello? No Che è un pezzo del tuo casa No, io invece Stavo giocando con la pallina in casa Per sbaglio Ho tirato Forte E ho rotto Le fate Di mia madre Ah, bim salabim Poi Ha arrivato la madre Bim salabim E allora è gestato tutto Ok Poi Hai mai fatto il bagno Con le onde molto alte? Una volta c'era un anno Che c'erano le onde Alte tipo due metri Quindi io Sì Is Ah, sì Sì Al mare Al mare Erano tipo altissime Sì al mare Beh, io sono andata a largo Eh, ciao Ah, poi Sei mai caduto Dalle scale? Io sì Io ci devo pensare Io ci devo pensare Io sì Allora, intanto ho visto Poi al tempo io ritiro Batti Io in pratica Ero A scuola Ero boiaco No, ero a scuola E sono caduto dalle scale Perché correvo Io se ci penso Non me lo ricordo Che sono caduto Quindi io rispondo Sì e no No Sì, no Sono mai caduto Che il mio mi ricordi Poi È possibile che sia caduto Però devo essere proprio piccolo Da non ricordarmelo Allora poi Sport preferito No No, no Non ho sport preferito Is On is Ah, no, no Scusate Io non ho sport preferito Nenchi ho sport preferiti Piatto preferito Oh, sì No, perché ho fatto Il mio piatto preferito Posso dire che Sono le Le melanzane da parmigiana Di mia nonna Il mio invece È pizza Patatine Kebab Tutto Tutto Poi hamburger Del McDonald Ma cosa c'era? Beh La dog Cowboy C'è tutto I cereali del McDonald E beh Poi La pasta di mio zio Che arrivava alla Sicilia Bene Poi Animale preferito Is Yes Allora Il mio animale preferito Proprio Detto così su due piedi È il ghepardo Cioè Per lo più I cuccioli di ghepardo Che sarebbero proprio Troppo teneri E quindi È proprio Oh mio Dio Invece Il mio animale preferito È Il mio due Posso dirne due No No Dirne le 40 Non è certo che puoi dirne due Finché non sono 49 Si chiama Pantera Nera Giusto? Sì La Pantera Nera La Pantera Nera È Un bel leone Un leoncino C'è una cosa C'è uno Cioè I figli È bene Dei fai Guarda la telecamera E fai Ok Adesso tocca Canzone preferita No Non ho canzoni preferite Perché più che altro Ascolto Qualsiasi genere di musica Su questo mondo Io la ascolto È anch'io Fiama preferita Ah la mia fiama preferita Non ce l'ho perché non ho mai letto una fiama Io no Ah no forse il cappuccetto rosso perché è l'unica che me la ricordo È l'unica che ricordo Sì Però no Lui deve copiare Copyright lo segnaliamo Allora Creepypasta preferita Le creepypasta sarebbero quei Cosi horror Che ci sono dentro i cartoni animati Non lo so On Mi ha parlato con la luce Guarda Guarda che cosa bella con la luce No Ecco Eh sì On No io non ne ho di creepypasta preferita Anche perché le seguo Ma non ne vado matto Hai mai Pianto in pubblico? Sì 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 ma non mi ricordo Eh Guarda Non so Sì ma non mi ricordo Eh Io mi ricordo Che ho pianti in pubblico Quando una volta stavo correndo per tornare a casa da scuola Ero appena uscito da scuola Stiamo parlando dell'asilo E c'erano due ragazzi grandi Tra l'altro stupidi Perché stavo correndo L'anno hanno fatto lo sgambetto Sono cascato per terra E tipo mi ero grattugiato tutto il mento E quindi ero incazzatissima E mi sono messa a sentargli la madre Il padre La sorella E il cugino Hai mai cantato O ballato in pubblico? Sì Io Michael Jetson All'età di Anch'io Anch'io All'età di dieci anni Io tipo Sei anni tipo Cioè ci andavo proprio di matto E al mio compleanno Mi sono messo a ballare Michael Jetson Io invece avevo sei anni In pratica ero da mia zia Che c'era una festa E c'era Michael Jetson Quando era ancora vivo E allora mi sono messo Com'è fatto a venire Michael Jetson? Eh? In che senso è venuto Michael Jetson? No quando era ancora vivo E l'ho visto in televisione Ah E allora ho ballato In pubblico E ho cantato Anche se l'inglese non lo sapevo Hai mai Sei fidanzato? No perché Perché preferisco stare single Cioè Ho proprio una ragazza Mi piace Talmente Da Eh? No perché appunto Preferisco Cioè proprio mi piace Ma mi fidanzo Se invece Cioè Mi interessa Però So che Non potrà andare Avanti Perché Non è A livelli Troppo alti Rispetto ai miei No perché Dico Poi magari Faccio fare qualche Brutta figura E la sua reputazione Proprio Infida nel censo Come fanno gli italiani Infida nel censo Io invece Mi piacerebbe Però Non ho Questo Dai Fai questa dichiarazione In un video Dato che Lei mi segue Sì? Sì Vabbè Ma sento Ok Tranquilla Non sei te Quella che Probabilmente sta guardando Questo video Non sei te È un'altra ragazza Potresti essere tu Ma non sei tu Se sì da quanto Sempre si riferisce No questo qua Non possiamo rispondere Sei Sei No Sei innamorato? Sì Sono innamorato Del mio gatto Mamma mia No Innamorato Non proprio Cioè Mi piacciono Delle tipe Però Non è Sei giocare a calcio? No No Però che cazzo Esistono queste? A calcio Sì Sono capace Ma non sono buono E invece A basket A basket No Non sono capace Mezzo e mezzo Io non sono capace Però Cioè A basket Sì Ci gioco a casa Però Non 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 sono Il nome del tuo miglior amico Allora Io ne ho più di uno Cioè nel senso che ne ho Tre Cioè proprio tre A cui sono affezionato Un po' più tanto Da livelli alti Tipo Tipo la La scala di Rickman Da quando esistono gli egiziani? Sì No no Di prima Prima Da quando esistono gli egiziani E si è formato il bang bang Il bing bang Il bing bang Allora Anch'io Anch'io ne ho tre Io Le miglior amiche Non ho un casino Ne ho un casino Di miglior amiche Nel senso Che Cioè Dato che io Ho un gruppo Dove esco Con queste persone Sono molte ragazze E anche qualche ragazzo Io invece No No Lui no 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 Magari La Camilla No Camilla Ci parla ma Ti babbas Che cazzo 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 Ti piace Ti piace la matematica? Subito Dove rispondere Sì Sennò Perché questo Questo video Lo vede il mio prof Quindi Sì Però Mi piace la matematica Mi metta dieci Solo per questo Però Perché La sto pubblicitando In un video Quindi Dovete piacere La matematica Così Vedete Like Stazione radio Che ascolti Di più? R101 Non ascolto la radio Non me ne frega niente Io Non guardo Proprio Televisore Hai fatto Hai mai fatto Uno spacchettamento Sì In un video Sì Che doveva uscire Su Battlefield Solo che è uscito Troppo lungo E non sono riuscito A farlo Ti avevo preso Un battle pack superiore E quello Prima del superiore C'era uscita Una roba bellissima Però è durato Più del dovuto E ho fatto invece Più di 4000 FIFA points Su FIFA 17 Io Su Su Rainbow Quanto ho shoppato Su Rainbow Shoppone Shoppone Anche tu hai shoppato Spunza Io ho shoppato Dalla volta Su GTA Eh Sono Allora Poi Che classe vai Terza Passiamo Dubitate Che Che lavoro Fai E vorresti fare Vorrei fare La web Star Io Sì Lui non le usa Io Sono onesta Allora Io invece Vorrei fare Fumatista Che probabilmente Non ci avvererà mai Però Vabbè Passiamo all'altro Passiamo all'altra Di che misura Sono le tue scarpe Mi vai fuori A prendere Le mie scarpe No Credo Sui 40 41 Di me E 42 E di che colore Le mie scarpe Ce l'ho di solito Nere O blu Scuro Io nere Dipende Dipende Fategli screenshot Adesso Allora Hai mai risposto Ad altri 100 domande No Ho risposto A 99 domande Allora Il tuo sogno Più recente Il tuo sogno Hai fatto L'ultimo sogno Che hai fatto Io non me lo ricordo Scusate Il tuo sogno Più strano E il mio sogno Più strano È stato Tipo Che una volta Ho sognato Che Ce l'ho tipo I miei genitori E vedevi Tipo I miei genitori Discuotevano E vedevi La testa Il corpo Che si allungavano E si stringono Era una cosa stranissima Ero lì tipo Skrillets E i veli Ho prendo È stata una roba stranissima No io invece no Niente Il peggiore incubo Allora Il mio peggiore incubo È stata una sera Che sono andata a dormire Da mia nonna E tipo Ho sognato Di arrivare a casa E tipo C'erano i miei genitori Poi tornavo Sono sceso in cantina E in quella cantina Tipo Ho aperto un'armadietta a casa Ho trovato Il corpo Senza braccia Senza bacino E senza testa Dei miei genitori Divisa in parti Poi sono salito su Però ce n'ho ancora vivi E quindi Ho pensato Che fossero Dato che io leggo Molti fumetti Deghi Skrull Per chi segue le serie Marvel Forse li conosce Io invece Oh cavolo È ubriaco Un incubo Io Il mio Incubo è stato Che Stavo guardando Sto Luna Park E in pratica Mi è Comparso Sto attacco zombie E io in pratica Mi sono spaventata E mi sono svegliata subito Sto attacco zombie Stavo guardando Luna Park Tranquillamente Che cazzo arriva Un attacco zombie Il nome del tuo primo animale domestico Tibi No beh Io ne ho avuti tanti Dei animali Ma prima che te nascesti Beh Prima che io nascesti Io ne avrò avuti un bot Però Diciamo che Il mio primo animale Diciamo che è stato Arturo Il mio gatto Ma Arturo cazzo duro Arturo culo a tamburo Dai Guarda che c'è pure Arturo Ma trappi underpula Allora E quello Del tuo ultimo Rocky Lo conoscete pure Ve l'ho fatto Se non mi sbaglio Vedere in un video E invece Lilla Nel frattempo Cioè sta durando un botto Mi sa che Arriviamo Alla metà E Possiamo Facciamolo più Veloce Poi La più grande cazzata Che hai mai fatto Più grande cazzata Uscire Far pensare Dai Delle false Impressioni O illusioni A una ragazza Che poi lei Si è incazzata Io non mi ricordo Poi Quante volte Hai fatto After No Forse Il compleanno Di miei Cioè sono stato Tipo sveglio Fino alle 5-6 Invece erano una festa E c'era musica a palla Allora Con chi? Con i miei genitori Ginnastica ritmica O artistica? Mi cerchi cos'è Ginnastica ritmica Non posso rispondere Perché non so cosa sia Calcio o calcetto? Calcetto perché Più divertente Lo fai con gli amici Esatto Allora poi McDonald's O Burger King McDonald's Burger King La miglior frase Che tu abbia mai sentito Io non mi ricordo più E prego ogni giorno Che Dio Che il tuo sorriso Venga prima del mio Tipo una roba del genere Poi Diresti Alla prima cosa Che ti viene in mente Non penso Erika Io non penso La mia cosa Che mi viene in mente Dire ciao La cosa che mi viene in mente Direi YOLO 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 C'è una domanda La domanda numero 43 Regà Si chiama Si scrive YOLO YOLO Allora poi Vabbè saltiamo Adesso YOLO Ah è cookie Anche a me è cookie special Poi Gusto di pizza preferito Non so che pizza tu mangi Mico mio Ma io mangio la margherita Tra l'altro c'è un errore grammaticale Gusto Poi Pioggia o neve 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 Tutta la vita YOLO Che nicchia Si Hai mai dormito Con una ragazza Si 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 Te lo posso Io Si perché Una mia amica Tutte amiche Fino a proprio contrario Da piccolo Da piccolo Allora Hai mai comprato Un'ambulat Eh Hai comprato Degli ambulanti Che cosa Che cazzo sono Gli ambulanti Che squadra tifi Allora Io non tipo squadra Io tipo Totti Totti È un calciatore Io tipo Totti Poi Regà Arriviamo a 5 E facciamo la seconda parte Del video Che trovate sul suo canale Il tuo canale preferito Plaker Inside Il tuo primo canale A cui ti sei iscritto Se non mi sbaglio Favij Il tuo primo canale Il mio invece Il mio primo canale Che mi sono iscritto È un canale Del cacchio È il primo che ho trovato Allora Il primo videogioco Che hai giocato Oh madonna Il mio primo gioco È Vecchissimo Era Crash 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 Io se non mi sbaglio Il primo gioco Che ho giocato È Super Mario Crash Crash è un gioco di macchina Non so mai Lo andatevi adesso Allora Poi Il primo soprannome Che hai dato A un tuo amico Kiki 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 Bene ragazzi Adesso Salutate Trovate la seconda parte Sul tuo canale E guardate Noi Come Tanta roba Tanta roba Vedete la seconda parte Ci vediamo al prossimo video Andatevi a tutto Bella ragazzoli Bella Oh cazzo Non ti venga